Affari tuoi. Il pubblico e Amadeus scioccati dalla decisione di Alessandra. Rinuncia alla vincita. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. In un colpo di scena emozionante durante l'ultima puntata di Affari tuoi. La concorrente Alessandra ha annunciato di rinunciare alla vincita. Questo gesto inaspettato è avvenuto mentre era in gioco con sua sorella Martina. Creando un clamore e un dibattito sui social media senza precedenti. Alessandra ha deciso di cedere la sua quota della vincita ai suoi fratelli. Proprio prima di aprire l'ultimo pacco. Che conteneva una somma significativa. Dopo un intenso scambio di opinioni sul da farsi, le sorelle hanno optato per scambiare l'ultimo pacco. Che poteva contenere 500 o 30.000 euro. La scelta si è rivelata fortunata poiché hanno vinto il premio più grande. Questo episodio ha segnato una delle ultime apparizioni di Amadeus come conduttore del programma. Che dal prossimo anno vedrà probabilmente Stefano De Martino al suo posto. La notizia del possibile cambio di guardia era stata anticipata da TV blog nei giorni scorsi. La generosità di Alessandra ha suscitato una vasta reazione da parte del pubblico. Con molti che hanno espresso ammirazione per il suo gesto altruistico. Discusso ampiamente sui social network. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.